Sì, questa volta non è andata per nulla a finire bene, ma andiamo con calma e vi spiego come sono arrivato a tutto questo. Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo video vi racconto come è andato il ferriere trail e vi racconto come mai ho tutto questo tutore addosso. Ma iniziamo il video. Se avete visto il video della Chianti Castle e se mi seguite su Instagram saprete sicuramente che questo weekend sono stato a Ferriere, in provincia di Piacenza, per correre il Trail Valley Grand Tour. È una gara da 101 km a 6.000 metri di slivello. Una gara che preparavo, una gara che mi avrebbe dovuto portare allo Scenic Trail di fine giugno. Una gara su quale io puntavo tanto e che mi ha davvero lasciato tantissimi segni. Inizio con raccontarvi la gara. Siamo partiti sabato mattina alle 6. Primi chilometri andati lisci, tutto tranquillo, finché abbiamo iniziato la prima salita. Prima salita è andata abbastanza tranquilla, anche lì c'erano dei bei pratoni enormi. Io non conosco l'Appennino, dico la verità. Prima volta che vado in Appennino in vita mia. Non ero mai stato in Appennino e mi ha lasciato veramente un bellissimo ricordo per i panorami, per come è fatta proprio la montagna. Io sono abituato ad avere salite super ripide sulle Alpi e invece le salite erano più dolci ma un pochino più lunghe. Mi è piaciuto veramente tanto quando siamo arrivati in cima alla prima salita. In principio al primo monte c'era una vista spaziale davvero. Si vedeva innanzitutto tutto il percorso che avremmo dovuto fare da lì in poi con tutte le cime che avremmo raggiunto. Si vedeva sotto Ferriere, a sinistra le valli della Liguria. Davvero un posto super bello. E niente, siamo andati avanti. Passato il primo ristoro, passato il secondo ristoro. Tutto ok. Il problema è stato, e qua arriviamo alla parte clou, dopo il secondo ristoro. All'incirca al ventinovesimo chilometro. Stavo scendendo da una discesa, una discesa con tanto tanto sfasciume che neanche qua sulle Alpi ho trovato. Davvero, ho girato abbastanza le Alpi ma uno sfasciume così brutto non l'avevo mai trovato. E lo stesso fasciume l'avevo già trovato dieci chilometri prima dopo aver raggiunto il primo monte. E già lì mi ero, non dico spaventato, però preoccupato un pochino perché comunque uno sfasciume così è davvero difficile da affrontare. Quindi io vado tranquillo, in discesa, camminando. Non stavo correndo anche perché era veramente bello ripido. E ho messo il piede su una roccia che pensavo fosse stabile. La roccia non mi ha tenuto. È andata giù la roccia. Sono volato giù anch'io. Sono caduto a peso morto. E cadendo a peso morto ho picchiato il gomito destro contro la roccia. Contro proprio la roccia che costituiva la montagna. E ho sentito una fitta di dolore veramente, veramente forte. A quel punto non ho voluto fare altro che rialzarmi. Arrivare al ristoro successivo. Sono arrivato al ristoro successivo che praticamente era in mezzo a nulla. Una signora mi ha medicato un pochino con quello che aveva libre. Comunque ho tutte le abrasioni qua dentro. E mi usciva anche il sangue. Sono arrivato lì e mi è riuscito a medicarmi con quello che aveva. Io sentivo male al gomito. Ma non così tanto. Forse aveva proprio l'adrenalina visto che ero appena caduto. Che non mi faceva sentire così tanto male. E con invece il fatto che fossi in un posto sperduto. Con due persone in croce. Non c'era soccorso alpino. Poi di questo però non ne parliamo. E via dicendo. Vabbè ho detto vabbè arrivo fino al prossimo ristoro. Mi è entrato tanto al prossimo ristoro. E a decenni di chilometri tutto in discesa. Ho detto vabbè arrivo là e poi valuto come sto col gomito. A quel punto si riparte. C'era giusto un piccolo zoccolo dopo in cui sono arrivato in cima. Quindi là eravamo tipo al quindicesimo chilometro. Nella cresta. Tutti questi bei monti. Allora c'era una stazione scelistica più o meno. E poi siamo scesi dalla dietro. Quel carinale che si vede lì. E lì dove sono volato per terra. Bello è. Al momento sono praticamente senza un braccio. Nel senso che non riesco a usare il gomito. È completamente immobile perché fa veramente male. E niente. Arrivò al ristoro del quarantesimo. Qui purtroppo a quello del trentesimo non c'è niente. Mi sono riuscita a malapena a medicarmi. E niente. Arrivò al quarantesimo. Adesso dovrebbe essere abbastanza tutta discesa. Dovrebbero essere 10 chilometri di discesa. E poi deciderò cosa fare. Tutta discesa sì. Ma nello scendere ho iniziato a sentire sempre sempre più male al gomito. Fitte veramente molto dolorose. Che mi hanno fatto completamente deconcentrare. Tanto che in discesa sono caduto un'altra volta. E naturalmente sono caduto sul braccio dove mi ero già fatto male. Questo naturale proprio. La fortuna vuole sempre così. Mi sono risbucciato un'altra volta. E ho cominciato a scendere. Praticamente con un braccio che perdeva abbastanza sangue. Avevo dietro fortunatamente le mie garze. Come abbiamo visto nel video dello zaino da trail che mi porto sempre. Ho sempre con me le mie garze. E io sono iniziato a scendere medicandomi. Da solo con queste garze. Il problema è stato che scendendo non ho più dato occhio a dove stessi andando. Nel senso scendevo convinto di andare giù dritto. Anche perché come ho detto io cercavo di medicarmi. Il problema è che a un certo punto probabilmente ci sarà stato un bivio. Io non me ne sono accorto. Ho sbagliato strada. Ho sbagliato strada e invece di fare una discesa piuttosto, come dire, a mezza costa che scendeva piuttosto tranquilla. Quasi un falso piano in discesa. Ho imboccato una discesa molto ripida che andava giù verso un gruppo di case. Però io al momento non ci ho pensato a sta cosa. Continuavo a pensare al mio braccio perché tra le fritte di dolore al gomito. Il braccio completamente pieno di sangue che mi sanguinava. Io continuavo a scendere e mi sono accorto di aver sbagliato strada quando ho raggiunto un gruppo di case che non dovevo raggiungere. A mia discolpa, vi dico la verità, questo sentiero era ben tenuto. Davvero ben tenuto e c'erano tutti i segni del CAI. Io quindi vedendo i segni del CAI ho anche pensato di essere sulla strada giusta. Non ho pensato alla balisatura fatta dalla gara. Fatto sta che quindi io per circa una mezz'ora ho sbagliato strada e sono andato avanti a scendere. Arrivato in questo bellissimo paesello di case mi sono reso conto di aver sbagliato strada perché non dovevo trovarmi nelle case. Sapevo che avrei dovuto prima passare una strada provinciale che non ho passato e poi successivamente sarei arrivato su un ponte in località ruffinati, così si chiama. Arrivato in questo gruppo di case non sapendo bene cosa fare, come sappiamo sul pettorale di gara ci sono sempre i numeri di telefono dell'organizzazione, ho iniziato a chiamarli e qui è iniziata un'odissea veramente, adesso vi racconto. Chiamo i numeri, c'erano tre numeri, non mi ha risposto nessuno, tutti che squillavano a vuoto. Alla sesta o settima chiamata che ho provato a fare qualche numero mi ha risposto uno, che non so chi sia, non si è identificato. Vabbè, gli racconto, guarda io mi sono fatto male, penso di aver sbagliato strada, e questo mi fa. Dove ti trovi? Io sinceramente avevo sbagliato strada, non avevo idea di dove mi trovassi, anche perché è la prima volta in vita mia che metto piedi in quel posto. E io gli ho detto, scusa ma dimmelo, te dove mi trovo? Anche perché noi quando abbiamo pagato l'iscrizione era compreso anche un GPS, io qua nel mio zainetto avevo il mio GPS. E quindi gli ho detto, scusa ma dimmelo, te dove mi trovo? Cioè c'è un GPS addosso. Ah, sì, scusa, eh, eh, dovessi trovarti in località, non mi ricordo il nome, purtroppo, e mi dice, eh, scendi in paese e chiedi a qualcuno se ti trovi lì. Un paese disabitato, cioè, c'erano le case ma probabilmente ci abiteranno solo persone anziane. E la mia fortuna è stata che in quel momento io continuavo a camminare sempre più scendendo, sono passato avanti alla parrocchia del paese, quindi c'è scritto parrocchia di e sono riuscito a leggerlo e a confermarglielo. E questo qua ha iniziato a dire, eh, ma hai sbagliato strada, eh, ma non hai guardato la balizzatura, eh, ma così, eh, ma cos'ha? E gli ho detto, sì, ho capito, cioè, non so che ho sbagliato strada, cioè. Mi ha detto, però troviamo una soluzione. Mi fa, aspetta un attimo, tu continua a scendere, io ti richiamo. E nel frattempo io avevo ancora tutto il braccio che mi sanguinava, cioè avevo il braccio completamente pieno di sangue. Fortunatamente ho trovato una fontana, sono riuscito a bagnare il braccio sotto la fontana, togliermi tutto lo strato di sangue e con l'ultima garza riuscire a tamponare un po', tanto che poi sono riuscito più o meno a fermare il sangue, almeno quello, sempre con un dolore al gomito che non riuscivo proprio ad alzarlo il gomito. Io continuo a scendere, questo signore qua di organizzazione mi richiama e mi dice, guarda, ho fatto partire una persona che ti verrà a prendere. Tu continua su questa strada, quando arrivi alla provincia del giradestra vai avanti e prima o poi vi troverete. Va bene, nessun problema, io vado avanti. E questo signore qua dell'organizzazione mi dice, ma cosa faccio, ti metto tra i ritirati? E gli ho detto, non lo so, me lo devi dire lei, cioè, mi dica lei cosa dobbiamo fare. E così fa, eh non lo so, dimmi tu, cosa dovessi scegliere io? Allora io lì, sinceramente anche un po' scocciato, gli ho detto, ma scusi un attimo, ma se io prendo un mezzo, un veicolo, durante una gara, non vengo automaticamente squalificato? E questo, ah, sì, e allora ti metto tre ritirati. Cioè questo non sapeva probabilmente nulla del trail, perché, cioè, fino a prova contraria, se tu mi fai venire a prendere qualcuno, cioè, o sei squalificato o sei ritirato. Anche perché, sinceramente, rifarmi i 600 metri di dislivello a salire per tornare sul sentiero, così come ero messo, non mi sembrava una grande idea. Già stavo pensando di ritirarmi al resto successivo, perché comunque il dolore era veramente forte. Complice anche questa cosa, mi sono ritirato e ho detto, vabbè, pensiamo alla salute, pensiamo di capire cosa mi sono fatto a questo braccio e finiamola qua. A quel punto, io ho chiamato la mia ragazza, che era con me a Ferriere, ci credete che, più o meno, sono arrivati insieme? Cioè la mia ragazza, mi stava venendo a recuperare anche lei, era praticamente due chilometri dietro a questa persona. Io sono andato avanti un'ora a camminare su una provinciale abbastanza brutta, e vi dico abbastanza brutta perché camminando su questa provinciale ogni 3-400 metri c'era un piccolo altarino a qualcuno che gli era morto, e io la stavo facendo a piedi, proprio bellissimo. E niente, alla fine mi hanno recuperato, mi hanno riportato al ristoro e mi ero ritirato e ho deciso di tornare a Ferriere. Tornato a Ferriere, fortunatamente c'era un'ambulanza, perché al ristoro dove sono arrivato con questa persona neanche lì c'era nessun tipo di soccorso, mi è detto che c'erano solo due persone anziane che davano da mangiare. Tornato a Ferriere, trovo l'ambulanza, mi medica, mi disinfettano tutta una cosa e l'altra, e mi dicono guarda, vai in pronto soccorso. Prima di arrivare al pronto soccorso però vorrei analizzare due cose principali sul quale voglio muovere una critica molto importante. La prima, i soccorsi sul tracciato. Questa è una parte molto importante, che mi sento di dire bravi e non bravi all'organizzazione. Fino a quel momento, prima che mi facessi male io, di soccorso alpino ce n'era, in punti davvero brutti c'era, ma da lì in poi, nel punto in cui mi sono fatto male io, che era abbastanza brutto, da lì in poi non c'era più nessun tipo di soccorso, né ai ristori, né in giro. Io posso capire che magari in giro, proprio nei punti specifici, lo si mette solamente dove ci sono punti cattivi, punti dove si rischia di far male. Ma almeno ai ristori mettere un qualcuno che abbia lì un kit di primo soccorso? No? È così difficile? A quanto pare sì. Io a due ristori, due, non ho trovato nessuno. E due ristori non ho anche successivi. Vabbè. Ma la cosa sul quale voglio porre maggiormente l'accento è la questione GPS. A noi è stato dato un GPS e riportato sul regolamento c'era scritto verrà fornito un GPS ad ogni partecipante per questione di sicurezza. Benissimo, eh. Super felici perché così veramente siamo controllati ogni secondo. Sì, ma siamo controllati ogni secondo, ma se nessuno guarda, come la mettiamo? Cioè io mi sono perso e stavo sbagliando strada per 30 minuti e nessuno mi ha chiamato per dire guarda che stai sbagliando strada. E continuavo a camminare fuori dal percorso. Quindi è molto evidente, cioè dalla traccia si vedeva benissimo che fossi fuori percorso. Poi la traccia naturalmente non potevo vederla perché ero in mezzo al nulla, non avevo internet. Io mi domando, ma se invece di uscire dal percorso camminando per mezz'ora fossi caduto in un dirupo, magari 20 metri sotto il sentiero in un punto dove non mi avesse visto nessuno? Cioè io avevo un GPS addosso, ma qualcuno avrebbe notato che io non mi muovevo da mezz'ora? Io questa domanda me la faccio sinceramente perché se nessuno mi ha chiamato pur vedendo che la traccia stava uscendo completamente di traccia ma se mi fosse veramente fatto male qualcuno mi avrebbe chiamato? Qualcuno avrebbe attivato i soccorsi? Spero di sì, però sicuramente sarebbe successo magari dopo un'ora, dopo due ore, se non dopo tre. È così che si utilizza un GPS? Non lo so, io non penso. Io ho avuto esperienza bellissima alla VUT l'anno scorso col GPS dove fortunatamente a me non è successo, ma altri che sono usciti di strada dopo un paio di minuti li chiamavano e gli dicevano scusa ma dove stai andando? Va che hai sbagliato a strada. Così funziona quando si ha il GPS non che sì, si ha il GPS per i parenti a casa ma poi l'organizzazione non lo guarda perché sicuramente nessuno lo stava guardando altrimenti se ne sarebbero accorti. Questa è la critica più grossa che voglio muovere all'organizzazione perché veramente parliamo di sicurezza importante siamo in montagna, abbiamo fortunatamente gli strumenti ma se non riusciamo a utilizzarli rischiamo veramente anche di rimetterci la vita e che possano accadere tragedie. Detto ciò, continuo il mio racconto a quel punto sono andato al pronto soccorso al pronto soccorso abbiamo fatto le lastre ed è venuto fuori che ho due microfratture al gomito. Io picchiando esattamente in questo modo sulla roccia mi sono fatto due microfratture diametralmente opposte sulle due ossa che vanno a comporre il gomito così mi ha spiegato l'ortopedico e non sono tanto importanti nel senso dovrebbero essere cose che in una decina di giorni tenuto il tutore dovrei andare a guarire quindi fortunatamente non mi sono completamente distrutto il gomito solo che mi ha spiegato che essendo un punto un pochino cattivo dove si va a sfregare, dove ci sono vicini i nervi, una cosa e l'altra quando muovo il gomito facendo probabilmente questo movimento sento tanto male quindi dai alla fine forse non è andata così male come poteva essere all'inizio perché quando mi hanno toccato i primi soccorritori mi hanno detto sicuro te lo sei rotto e lì se me lo fossi rotto probabilmente un due mesi di stop non me l'avrebbe tolto nessuno. dato ciò, come proseguiamo? beh io adesso cercherò di guarire mi farò dieci giorni tranquillo, recupererò ma io ho già la testa proiettata a fine giugno allo Scenic Trail perché va bene, alla fine in questa gara ho fatto 40 km però mi stavo divertendo e soprattutto ero ancora più veloce del ritmo che dovevo tenere a parità di frequenza cardiaca quindi stavo andando veramente bene il posto mi piaceva tantissimo e questo mi conferma che gli allenamenti che sto facendo vanno bene per il tipo di gara che voglio affrontare questo 100 km probabilmente l'avrei conclusa senza altri imprevisti o chissà cosa anche in minor tempo rispetto a quanto avevo preventivato proprio perché stavo andando già più veloce e mi mancava ancora tutta la discesa ero già più veloce del mio tempo e sicuramente sapete che quando poi si va in discesa lo si abbassa il tempo totale sul chilometro quindi veramente potevo sorprendermi da solo ma purtroppo così non è stato per questo brutto infortunio detto ciò io spero con questo video anche un po' polemico di essere d'aiuto a chi magari voglia organizzare una gara voglio essere d'aiuto innanzitutto all'organizzazione del ferriere perché è il primo anno che facciamo la gara a 100 km con il GPS spero che l'anno prossimo prendere una persona da mettere davanti a un computer dove ci sono i GPS e guardarli continuamente spero che questo mio video non finisca nel dimenticatoio ma che possa aiutare qualcuno detto ciò ragazzi io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo ai prossimi che usciranno comunque nei prossimi giorni perché furtamente avevo già dei video registrati di alcune recensioni quindi ragazzi grazie per averlo guardato e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao